Tra i maggiori interpreti dell'arte ambientale italiana, Angelo Cascello e le sue opere realizzate nel corso dell'ultimo trentennio sono i protagonisti del primo volume di una collana dedicata al rapporto tra le diverse arti e l'architettura edita da Gutenberg edizioni di Fisciano e curata da Massimo Bignardi. La presentazione del libro nella sala conferenza dell'Ordine degli Architetti di Salerno è stata l'occasione per parlare dell'evoluzione dell'arte ambientale, soprattutto nel mezzogiorno dove sono avute installazioni di importanza internazionale come quelle realizzate per la Metro di Napoli, ma non solo. Bignardi ha descritto il lavoro dello scultore negli ultimi trent'anni, tra le opere principali, come dicevamo, quella commissionata dalla Regione Campania nell'ambito della riqualificazione delle linee della metropolitana per realizzare un intervento scultorio, pittorico e decorativo per la stazione di Mugnano della Metro Campania Nord-Est progettata dall'architetto Freda terminata nel 2009. Tra le altre opere pubbliche, la nuova cappella di Santa Maria di Real Valle a San Pietro di Scafati o il pettine di Poppea a siti di Giffoni Segasali. Abbiamo raccolto a partire dai lavori dei primi anni 80 o comunque la parte, possiamo dire, più di avvio fino ad arrivare alla metropolitana di Napoli, al cineteatro di Bosco Reale e poi alla stanza della pace fatta per la fondazione Lavalle a Catania. L'idea è quella di dare prova di un artista che ha saputo misurarsi nel tempo con lo spazio ma soprattutto con i luoghi, l'idea sua di riuscire a relazionare quello che è la dimensione urbana e il rapporto che l'arte deve avere con la dimensione urbana. In questo c'è indubbiamente anche la grande capacità di Angelo di essere cooptatore di energie del territorio. L'incontro con Cascello ha dato la possibilità anche di approfondire il delicato rapporto tra le arti e l'architettura oltre che l'arte ambientale e parlare della situazione vissuta attualmente in Italia nel mezzogiorno. Le metropolitane io credo che a Napoli e in Campania siano state una delle cose che ha dato grande lustra la nostra nazione ma a livello planetario. Quindi io credo che il problema chiaramente esiste oggi probabilmente dovuta a una crisi economica che mi sembra forse che probabilmente ci sia qualche cenno di ripresa ma quanto è stato fatto secondo me è stato un esempio importante. Io ho avuto l'onore di partecipare a questa grande avventura e per quanto mi riguarda credo che sia anche una cosa che sicuramente dimostra come poi non è vero che Meridione come tutti quanti raccontano è capace soltanto di essere in qualche modo sussistito oppure deve avere una situazione di subalterità. No, il Meridione rimane uno dei posti più importanti dove si pensano delle cose straordinarie e anche la politica quanto è intelligente, quanto è capace e in parte anche Salerno lo ha dimostrato nel tempo passato e ancora probabilmente oggi. Io penso che ci sono possibilità. Sono molto fiducioso e chiaramente bisogna fare i conti con la realtà questo è secondo il mio punto di vista. Grazie a tutti.